Nel 2019, a soli 16 anni, lascia famiglie e amici per approdare in Italia giocando a Capodorlando, un rischio che alla fine avrà pagato. Io vorrei parlare in inglese, vorrei parlare dell'experienza, perché questa è l'anno in l'Upper League, in la Major League, come ti prepari durante l'anno? Ovviamente per l'anno scorso l'anno sarebbe stato un grande passo dal secondo, soprattutto la fisica e la rapidità del gioco, quindi ho cercato di lavorare molto sull'argomento, ma anche per migliorare fondamentali, anche per farlo più bene, per farlo aperto, per farlo aperto, per farlo consistente. Per me il summer è molto importante, per fare il prossimo passo, per la prima divisione. Quinti, quando eri 16 anni si riuscite in Italia, hai lasciato in Italia con la famiglia e i miei amici. Ora, a questo punto di vista della tua carriera, guardando il passaggio, dovresti fare lo stesso? For sure, 100%. At 16 anni ho preso un rischio, come si dicevo, di venire in Italia in un paio diverso, andare da mia famiglia, amici e giocare in un paio diverso, ma sinceramente non potrei cambiare niente. Ho avuto l'opportunità di andare in America, ma sento che questa rotazione che ho preso è perfetta. E qual è la situazione del basket in l'Unione? È un movimento che sta crescendo? In recenti anni è sicuramente sul rischio. Penso che abbiamo gli atleti, gli uomini che riuscano e riuscano in alto, ma è molto più la parte fondamentale. Non abbiamo i tanti, gli uomini, gli uomini, gli uomini, gli uomini, gli uomini. Qui in Italia vediamo gli uomini, gli uomini, gli uomini, gli uomini e gli uomini. In l'Unione non funziona, ma sicuramente il basket in l'Unione è sicuramente sul rischio. E qual è il tuo sogno, il tuo obiettivo, il tuo obiettivo, il tuo obiettivo? Io vorrei dire che per arrivare il livello più alto possibile, se fosse Euroleague o MEA o qualunque, per continuare a giocare il basket, e per usare la forma di viaggiare il mondo. Io vorrei vedere molti altri paesi, vivere in molti altri paesi. Ok, ti piace Trento per ora? Sì, per sicuramente. Trento è fantastico. È stato un primo primo mese. La gente è bella, la città è bella, c'è molto da fare. Io vedo che in questa squadra c'è un'importante figura che può essere molto importante per te e per la tua carriera. Capitain Toto. Sì, sicuramente. E' stato davvero molto utile per me per me, per me e per me, per me, per me, per me. E' un grande leader, ha stato qui per me, per me, per me, per me, per me. E' un grande professionista, sapere come se si prende, e ho proprio cercato per lui per dare un'evoluzione, per me, per me, per me, per me, per me, per me. E' stato davvero molto utile per me per me per me. Per me per me. Ok, perfetto, man. So, thank you so much. And see you in the Gurt. Thank you.